Assessore Bertolaso, cambiano i tempi di attesa nel senso che vengono ottimizzati per chi si reca nei pronto soccorso lombardi? Cambia un po' tutto perché ovviamente l'obiettivo è quello di ridurre al massimo i tempi di attesa che certe volte soprattutto per quelli che sono le situazioni meno gravi sono davvero troppo lunghi. Ma cambia completamente quello che è l'approccio, quello che è il metodo organizzativo non solo dei pronto soccorsi ma di tutto il grande settore dell'emergenza e dell'urgenza. E quindi parliamo di tutto quello che accade dal momento in cui si chiama il 112 oppure si chiede aiuto per una situazione di emergenza fino a quando non si viene dimessi dopo essere stati assistiti per quel problema specifico. Quindi è completamente una inversione di rotta, una riorganizzazione davvero importante che non è che si fa in mezza giornata. Ci vorrà davvero parecchio tempo per arrivare poi a quello che è il traguardo finale di un sistema di emergenza e urgenza e deve essere il più moderno al mondo. Spesso sui giornali leggiamo che molti pazienti si recano al pronto soccorso, vanno lì ma di fatto intasano tutti questi ambulatori. Questa delibera mette un pochino più ordine su questi aspetti? Sì, mette ordine appunto a quello che è proprio tutto il processo. È chiaro che chi ha bisogno del pronto soccorso ha il diritto di essere assistito al massimo, ma è anche chiaro che con quella che è la nuova situazione nel nostro paese e quelle che sono anche le nuove tecnologie di cui noi possiamo disporre, molti problemi possono essere risolti direttamente sulla base di una chiamata al 112. Abbiamo in Lombardia, unica regione in Italia, dove c'è anche un sistema ormai di telemedicina, dove il medico dalla sala operativa dell'emergenza può parlare direttamente con la persona che chiede aiuto. Spesso sono quei codici bianchi e quei codici verdi che possono essere risolti senza dover andare al pronto soccorso. Questo è già un passo importante al quale però ne seguiranno tanti altri. La Lombardia infatti ha introdotto la figura del medico dell'emergenza urgenza proprio nel pronto soccorso. Sarà un ruolo al quale noi puntiamo molto. Vorrei dire che questa è un po' anche la sfida che noi lanciamo a quello che è il mondo della sanità e soprattutto il mondo dei medici e in particolare dei giovani medici. Oggi non tutti sanno che su 100 borse di specializzazione in medicina e urgenza purtroppo più della metà di queste 100 borse di studio vanno deserte perché i medici non vogliono più fare la specializzazione dell'emergenza e dell'urgenza. Non è che non la vogliono fare perché non gli piaccia questo tipo di specializzazione che secondo me è una delle più belle, una delle più avvincenti. Non si presentano perché guadagnano poco, vengono trattati male e nei pronto soccorsi si sa che si lavora moltissimo e si rischia ancora di più. Noi con questa delibera e con la riorganizzazione del pronto soccorso vogliamo dare ai medici dell'emergenza e urgenza un ruolo primario. Vogliamo dargli una prospettiva, un futuro sempre più avvincente in questo campo e contemporaneamente la garanzia a chi si avvicina al medico di pronto soccorso di essere trattato nel migliore dei modi.